buonasera buonasera amici ben trovati di nuovo a questo nostro appuntamento del venerdì sera ormai è un appuntamento di affetto di amore per la maglia azzurra ma anche di amore tra noi tifosi che ci vogliamo bene ci stiamo preparando a qualcosa di bello voi sapete che io per motivi che non sto qui a precisarvi tendo ad evitare l'argomento col numero 3 diciamo che aspettiamo fiduciosamente io voglio dire sono stato fortunato perché quando ho cominciato questo ciclo di trasmissioni ho deciso di intitolare questa 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 mia idea questo mio salottino di amici una città azzurra vi dico la verità ci speravo ma mai pensavo che girando per la città davvero dopo qualche mese sarebbe diventata una città azzurra per davvero è bellissimo girare per le strade in questi giorni stamattina ero proprio al centro storico ed è veramente come essere in una favola ho visto tanti turisti entusiasti girare ho visto ragazzi stranieri girare con maglie del napoli inverosimi in alcuni casi diciamo di di varia provenienza ma è bellissimo partiamo subito questa sera presentandovi l'amico che mi è venuto a trovare amico lo posso dire forte ci conosciamo da qualche settimana e 45 anni e ognuno agli amici che si merita probabilmente è con noi l'avvocato nello caserta buonasera nello buonasera salvatore buonasera a tutti e le parole che hai detto hanno avuto riscontro oggi perché fra i vari video che ho visto per tele sul cellulare su computer hanno organizzato una partita a piazza municipio fra napoletani e tifosi d'inglesi proprio ieri in occasione di italia inghilterra ed è finita benissimo certo ma però è stata una cosa piacevole per lo meno abbiamo visto qualcosa di piacevole ma il calcio dovrebbe essere questo il calcio è quello nostro quello che noi seguivamo quello che noi ahimè giocavamo o cercavamo di fare non scenderò in particolari sulle prestazioni calcistiche dell'avvocato caserta su cui stenderei un velo di pietosa e umana comprensione invece per quanto riguarda il calcio vero quello che seguivamo con amore e compassione io credo che sia giusto importante almeno per noi che abbiamo qualche capello in meno qualche capello più chiaro oggi ricordare oggi il 24 marzo vorrei dedicare un minuto con l'aiuto della regia ad un signore eccolo qui questo signore col numero cinque che ha illuminato il calcio a napoli ed è a mio parere se non il più forte sicuramente il più forte il secondo nei primi due calciatori più forti che siano mai stati a napoli ovviamente mi riferisco a calciatori terrestri e quindi non è contemplato l'altro questo è l'unico gol di rudy kroll a brescia ed è enrico nicolini per chi lo ricorda che l'abbraccia mario guidetti con il numero quattro questo è lo stadio che festeggiava questo signore per i più giovani è stato credo nello senza tema di smentita un pilastro del calcio mondiale basti ricordare che questo signore ha vinto sei scudetti quattro coppe d'olanda tre coppe dei campioni una coppa intercontinentale una supercoppa uefa e è arrivato due volte in finale dei mondiali nel 74 nel 78 la grande olanda chiaramente ebbe la sfortuna in entrambi i casi di giocare contro i padroni di casa una volta in germania ricordi che andarono in vantaggio e poi gerd muller con rigore e poi una volta con l'argentina e poi in argentina 78 con quello che succede per i più Mario Campes che devi ricordare esatto per i più giovani vedete chi ha visto era la prima volta diciamo parliamo del 1980 una napoli subito dopo il terremoto napoli distrutta impaurita che forse aveva bisogno di sentire una forma di di aiuto la voglia di rialzarsi di riemergere e arrivò questo giocatore ormai potremmo dire d'età quando arrivo a napoli lui comincia terzino sinistro non nel grande ajax perché aveva surbir dall'altro lato poi mano mano diventò centrale difensivo e poi il classico libero che adesso nel calcio moderno non si contempla più ma un giocatore in grado di illuminare uno stadio io ricordo ancora il tremare del marmi del san paolo di rudy 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 che somiglia un po a quello che fanno adesso con kim 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 che ricordo ha attenzione quel napoli grazie soprattutto alla presenza di rudy kroll sfiorò il sogno ancora una volta quando in una partita che non saprei dirvi stregata perché non dà la misura ben più di stregata contro un derelitto perugia dopo cinque minuti moreno ferrari una sfortunata autorete 85 minuti di assedio ma neanche credo gli assedi le vecchie città medievali così con un giocatore del perugia nello malizia che parò l'inverosimile non riuscimmo a a portare a casa quella partita ciò nonostante avemmo poi una seconda possibilità in una penultima in casa non vi dico contro chi lo immaginerete le immagini potevano anche non essere a colori tanto per loro non cambia e subimo un gol di vinicio verza che ci costrinse a dover rimandare però il nostro primo fuoriclasse non ci riuscì ma dovemo aspettare cinque sei anni quando venne poi quell'altro la non ce ne fu per nessuno qual è il tuo ricordo nello di rudy kroll allora io ho avuto la fortuna di vederlo giocare al san paolo e il ricordo più bello che ho la classe perché giocava a testa alta sempre e se ricordi dato che era un calcio di alti tempi e noi diversamente giovani si ce lo dobbiamo ricordare per forza aveva un gesto che era indicativo di tutto l'indice l'indice della mano destra alzata e aveva una capacità che mi è rimasta impressa nella mente lanci anche di 30 metri che sono inimmaginabili nel calcio di oggi anche di più e la palla arrivava sul piede del giocatore a cui era destinata anche perché gli attaccanti dell'epoca erano oscar damiani e claudio pellegrini terzo e c'era anche speggiorin abbiamo avuto anche speggiorin c'era la il nostro grande rimasto il nostro cuore gaetano musella e quell'anno quegli anni furono diciamo preparatori furono gli anni in cui napoli cominciava ad emergere a poter dire la sua andavamo nei campi delle grandi squadre quelli che vedete io perciò dico dobbiamo essere veramente felici quest'anno ma felici lo lo chiedo proprio ai miei cotanei a quelli della mia generazione quelli che abbiamo sì visto crawl visto maradona visto gli scudetti ma abbiamo visto ben altro io non vi faccio nomi ma quelli che hanno seguito il napoli negli anni più bui ricorderanno la partita a gela già nella serie c ma già negli anni pre crawl fino anni 70 e poi negli anni a cavallo abbiamo visto squadre imbarazzanti dove veramente aspettavamo la domenica sportiva nella segreta speranza di stare nella colonna di qua e non nella colonna di là ecco perché i ragazzi mi rivolgo a voi adesso siate davvero felici davvero contenti perché questa è una squadra bellissima poi analizzeremo più avanti nella trasmissione perché ci sono dei dati che sono secondo me fuori della grazia di dio perché non è non è neanche un campionato che il napoli sta vincendo non lo sta neanche dominando secondo me è un campionato che non c'è perché io sono convinto che gli altri ormai da tempio da tempo si stiano organizzando una cosa tra loro perché dice ma tu c'è con napoli no va bene già abbiamo dato e da tal proposito a tal proposito ho visto sempre perché mi piace sbirciare sui vari canali una una bella frase di lele adani che è venuto a napoli in questi giorni e per vedere per assaporare la l'area dello scudetto e ha detto una cosa giusta ha detto noi nel campionato italiano dobbiamo vergognarci di cosa che tutte o quasi tutte le trasmissioni sportive parlano non del napoli perché dicono il napoli sta facendo il campionato a sé quindi non non vogliono analizzare la bellezza di questo napoli far crescere così il calcio italiano ma si occupano di quelle che sono le sconfitte del del milan le le pseudo vittorie comunque della juventus senza analizzare quello che sta facendo il napoli per il calcio italiano perché trasmissioni di tutta europa giornali di tutta europa parlano del napoli io credo che si ma non credo possano fare altro cioè sinceramente un napoli che va a questi ritmi perdonami ma che 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 poi le analizzeremo i dati però chiedo a te quelle vecchie partite alle tre del pomeriggio alle due e mezza tre del pomeriggio qualche volta sotto il diluvio non c'è la copertura e si andava io io ti rammento ti rammento io negli anni del belle insomma che non c'era ancora la copertura al san paolo che fu fatta in occasione dei mondiali del 90 lo ricordavo proprio con amici comuni noi andavamo in curva b eravamo abbonati e andavamo le partite cominciavano alle 3 anche noi alle 10 stavamo allo stadio eravamo in curva b ovviamente non esisteva vento freddo pioggia e aspettavamo quelle 4 5 ore che cominciasse la partita ma quell'aspettativa che poi non esistevano tornelli non esisteva essere del tifoso si entrava tutti quanti proprio diciamo tipo bandria i tornelli non esistevano perché aprivano i cancelli quelli là giganteschi e si entrava nello stadio ma sono ricordi bellissimi che si hanno perché io ricordo i cori che sintonavano soprattutto primo scudetto che il la curva b principalmente ma tutto lo stadio 20 minuti prima della partita incominciava con e poi entravano le squadre in campo e esplodeva l'apoteosi questi sono ricordi che noi in questo momento ringraziamo al cielo stiamo rivivendo e stiamo rivivendo alla grande perché vedo una tale passione da parte non soltanto della nostra generazione che ha vissuto l'epoca meravigliosa di maradona ma anche dei giovani che con questo scudetto che dovrebbe venire insomma io uso sempre il condizionale hanno modo di riscattare se stessi e anche l'intera città nello mi chiedono mi chiede fulvio fulvio annunziata mi chiede ma di commentare non so se hai avuto modo di vederla la formazione all time del napoli il più forte non mi è piaciuta ma ci mancherebbe assolutamente perché hanno messo grava come terzino insomma con tutto il rispetto per gravatar se ricordo sopra il nome che veniva da gianluca gianluca e nel mio cuore tutti i tifosi del napoli ricorderanno il salvataggio sulla linea con il lecce prima che cavani facesse quella cosa meravigliosa che fece voglio dirvi capisco l'intelligenza artificiale ma o secondo me vanno cambiate le pile a questo robot o quantomeno immettergli dei dati perché una formazione del napoli all time che non prevede rudy kroll è una formazione che non può esistere una formazione che non prevede antonio iuliano è una formazione che non può esistere una cosa anzic e beh beh siamo nel minimo sindacale direbbe qualcuno però non puoi mettere giorginio e non iuliano non è il mio modo di vedere il calcio sì però giorginio pure è stato un voglio dire ma due a sinistra andrea d'ossena nel mio cuore ma luciano marangon ma l'angelo sbagliata volpecina volpecina gol che fece al torino voglio dire certe volte io credo che quando si ha voglia in qualche modo di non dico di polemizzare ma di parlare di qualcosa che mi pur di dire qualcosa cioè che fa cioè puoi mai pensare davvero una formazione senza rudy kroll cioè allora comincia la cosa dovrebbe essere partiamo con maradona careca kroll non c'è giordano cioè allora di che ma come devono essere 11 ho capito allora va siccome non è possibile farla e a porta non ricorda ha messo mattolini la buonanime di mattolini non c'è però c'è zoffo mi sta bene ma non c'è castellini non c'è questo dice non c'è garella gabbiero d'italia non c'è vabbè giuliani per me era più forte di garella come portiere poi vediamo ancora gli amici che ci scrivono da casa un parere sulle dichiarazioni di de laurentis oggi sulla trattariva allegri spalletti e gattuso non era meglio soprassedere per motivi di opportunità io credo di sì credo di sì sì credo di sì allora io io allora io in altre ho avuto modo di non criticare però in altre trasmissioni riferendomi a de laurentis questo stiamo parlando di un buon netto e mezzo fa mi ponevo la domanda e dicevo cosa vorrà fare da grande de laurentis perché era arrivato un punto dopo 19 anni di proprietà napoli che credo che bisognasse fare il salto di qualità diciamo che mi devo ricredere perché comunque lui ha investito in questa società e ha un grandissimo direttore sportivo che è giunto perdonami su qual c'è qualcuno poi ti farò vedere nelle chat che degli amici che ci scrivono che dicono che lui non ha investito nel napoli no lui ha investito no secondo questo lo so è la mia domanda retorica oltre che probabilmente pleonastica ma perché secondo questo amico non ha investito perché non ha messo soldi sui allora qualcuno mi deve spiegare perché ho un concetto dell'imprenditoria che forse è un po' anziano nel tempo se io apro un bar una pasticceria faccio dei prodotti ottimi per cui incasso un milione di euro dopo di che dico ma sai che c'è di nuovo compro un'impastatrice migliore ma tu non hai messo i soldi tuoi hai messo quelli dei clienti scusate io che faccio nella vita faccio l'impresa quindi i soldi che investo bisogna dire all'ospetto bisogna dire all'amico i soldi della juventus sono quelli della fiat non sono quelli di agnelli non è che agnelli non è lui che li versa ma credo che siano quelli della fiat su questo non sfidiamo l'argomento perché dovrei dirti sei sicuro e ma soprattutto sì i soldi saranno anche della fiat bisogna vedere come poi vengono messi a bilancio però non voglio toccare l'argomento in questo momento tu hai qualcosa a dire sulla perché la uefa ha aperto l'indagine ufficiale solo questo insomma è un male per il calcio italiano questo assolutamente è un male per il calcio italiano che non ci fa una bella figura in via generale perché chi doveva controllare non ha realmente controllato questo è stato il problema perché non è che stiamo parlando di un qualcosa che si è verificato negli ultimi sei mesi e non stiamo parlando delle semplici plus valenze che bene o male chi più chi meno lo fanno tutte le società ma stiamo parlando di reati penali e non ultimo anche oggi è uscito il proprio sulla sulla gazzetta il un altro diciamo un altro guaio chiamamolo così insomma un altro problema relativo a ursolini sul diritto di ricompera che ha fatto scattare un'ulteriore indagine penale non sportiva penale quindi giustizia ordinaria relativa al diritto di ricompera della juve per far poi quadrare i bilanci insomma io mi limito a riferire ciò che leggo e a me dispiace però per il calcio italiano mi dice il dottor fabiano mi chiede mi dice per impresa si intende anche essere patrimonializzati ed avere strutture proprie però questo è vero però parliamo di un'impresa calcio l'impresa calcio il dottor fabiano è un ottimo funzionario di banca per cui giustamente la valutazione che fa di impresa è quella che si fa ovviamente quando devono fare delle valutazioni e quindi sono d'accordo con lui ma l'impresa calcio è un'impresa un po particolare perché un'impresa che non ha necessariamente struttura per esempio la stessa impresa cinematografica che è quella poi di provenienza del nostro presidente non ha una struttura io se ho faccio impresa cinematografica non ho necessità di comprarmi un cinema o un teatro di posa io faccio un investimento decido di fare ben ur prendo i teatri di cine città prendo tutti i costi faccio un piano investo e cerco di rientrare l'impresa sportiva è particolare perché dico questo perché alla fine il famoso stadio di proprietà chiedo scusa che tanti di cui tanto hanno incolpato il presidente dell'aurentis non avere non è facile una città come napoli attenzione non siamo una basta vedere milano e roma ne stanno parlando da anni non hanno fatto nulla ancora a firenze c'è un nostro amico che è innamorato del viola park lui immagina questa immaginava questa cosa meravigliosa io credo che a firenze sarebbero stati molto più contenti se la società dice guarda non vi facciamo il viola park ma ci teniamo chiese vlauic invece tolgono i giocatori la stessa atalanta avete visto a zingonia ha un ottimo centro ha stato di proprietà ha ceduto metà gli americani ma quando si cede ai fondi non è sempre rosea la prospettiva perché sotto correzione tua e degli amici da casa il fondo ambisce al guadagno della realtà sportiva probabilmente io cliente del fondo che vivo a los angeles non so manco cos'è il calcio napoli per dire voglio vedere a fine rendi conto sì ma quando mi dai tutta questa operazione quindi io direi questo non è il tempo delle valutazioni societarie credo d'altronde a napoli si è parlato della della società in termini in vere condi e per molte in molte occasioni io credo che adesso proprio da tifosi del napoli dovremmo avere quasi il diritto di pensare solo a festeggiare non mi porto niente non voglio sapere niente non mi interessa di quanti soldi ci sono solo una cosa ragazzi e questo noi napoletani lo dobbiamo ricordare al di là della festa io so che dopo tanti anni di sofferenza io non ho più il timore di dover vedere i libri contabili nella tua sede di lavoro in tribunale non ho più il terrore di pensare di dover di nuovo vedere come diceva il presidente Lorenz i palloni a pestum e ricominciare con Gela Manfredoni a Sora con grande rispetto per loro Teramo Chieti e Vis Pesaro Picchio Varricchio al novantesimo allora questo per noi napoletani deve essere fondamentale noi sono ormai 13 anni credo che siamo stabilmente sul tetto d'Europa e d'Italia secondi posti terzi posti sempre in coppa europea voglio dire in questi anni abbiamo visto e battuto forse vado male io con la memoria il Chelsea il City il Liverpool il Dortmund quando c'era Klopp voglio dire non mi pare proprio però però io non è che voglio fare l'avvocato del diavolo non voglio fare l'avvocato del diavolo io portavo un esempio fino all'anno scorso perché poi proprio venendo in trasmissione ne parlavo con te e dicevo anni fa ti ricordi il famoso C puntini puntini di Sacchi sì quest'anno comunque è andata di lussissimo a De Laurentiis dopo lo smantellamento della squadra è andata di lusso ed è stato per me un grandissimo giuntoli che ha seguito Kim già da tempo perché chi me lo seguiva già da un po di un paio d'anni Klavashvelia l'ha visto l'ha visionato e ha avuto la bravura e la forza di poterlo prendere però portavo un esempio scusami la provocazione l'è data facoltà scusami la provocazione fino all'anno scorso io non è che ce l'ho io non è che ce l'ho con De Laurentiis anzi io devo ringraziare De Laurentiis per carità di Dio però facevo un esempio prendiamo un noleggio con conducente ok senta io domani mattina devo andare all'aeroporto di Fiumicino le parole di De Laurentiis fino all'anno scorso devo andare io prendo il noleggio con conducente devo andare all'aeroporto di Fiumicino perfetto arriviamo a Balmontone si ferma ok siamo arrivati dove a Balmontone ma io devo andare a Fiumicino che se ricordi De Laurentiis diceva io vi ho portato fine qua e noi ti ringraziamo di questo ma da Balmontone a Fiumicino è poco ed è quello che è mancato per tanti anni questa è la cosa per la quale i tifosi a giugno dicevano la 16 la Napoli Bari giustamente però ti faccio domani sul giustamente ho le mie riserve e ti dirò perché ma ti chiedo ti sembra possibile che ci sia qualcuno che veramente crede che un imprenditore una società come il Napoli un imprenditore come De Laurentiis abbia fatto il mercato perché si è sentito turbato e stimolato da quelli che scrivono la 16 assolutamente no almeno questo non me lo potete chiedere allora rifletti e preparati studia perché nella seconda parte affronteremo anche questo argomento vedrai che ci saranno tanti amici che saranno dalla tua parte però ci fermiamo per qualche attimo e torniamo tra pochissimo non andate Grazie a tutti Consulenza formazione nuove metodologie con strumenti informatici e multimediali e specifici percorsi individuali è consorzati Consorzio Andromeda, progetto Gol, formazione 4.0, formazione medica ECM, garanzia giovani e percorsi di laurea e campus. Consorzio Andromeda, ente di formazione professionale, accreditato dalla regione Campania. Siamo a Casa Vattore, in via dell'Industria 36. Visita il nostro sito www.consorzioandromeda.it Seguici su Facebook ed Instagram. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vedete in sovraimpressione il nostro numero per i vostri WhatsApp, ne aspettiamo in tanti. Non fate domande difficili all'Avvocato Caserta che è notoriamente impreparato dal punto di vista tattico e tecnico, però come si evince dalla figura domandategli cose più tecniche. Non so, la pastiera, il tortano, queste cose sulle quali più diciamo è. Quando poi analizzeremo la parte tecnico e tattica vi dovrò anche svelare un nostro piccolo segreto fraterno sull'organizzazione di una squadra in campo dal punto di vista difensivo. Se mi promette che non ride fino alle lacrime. Questo non lo posso promettere. Allora, vediamo un secondo. che chiaramente ha risposto a qualche domanda degli astanti. mentre facciamo i complimenti al mister chiedo appunto alla regia, poi commentiamo insieme le parole del tecnico toscano. Eh sì, perché questo si percepisce anche stando al di fuori quando si vede, quando si vedono le immagini del Napoli, del calcio giocato anche in precedenza. Spesso dentro quel calcio lì c'era Maradona, per cui diventa forzato di dover assorbire, di dover reggere una certa pressione che fa parte di amore e di passione. Perché qui sono tutti appassionati per il calcio e per i propri colori, come stiamo vedendo se facciamo due passi. Però poi è ancora il tempo del lavoro, per cui è un patto che abbiamo fatto con la squadra e loro ce l'hanno bello chiaro, che è ancora il tempo del lavoro. Poi si vedrà se si festeggerà oppure altro. Allora, che ne pensi Nero di queste parole di Spalletti? È il tempo del lavoro, non è ancora il tempo del festeggiamento? Sono perfettamente d'accordo. L'esempio è il quarto gol fatto al Torino. Spalletti dà una carica e un agonismo a tutta la squadra che io in Europa non ho visto, non vedo in nessuna squadra. Il quarto gol di Dembélé parte tutto da una fame di Osimène di riconquistare il pallone, per poi passarlo a Kvara. Ma sul 3-0 quale allenatore direbbe ai propri giocatori continuate a apprezzare, continuate a mordere il campo per poter arrivare ancora più avanti? Questo è quello che sta dicendo Spalletti. E io per questo sono d'accordo con il mister, il quale dice che ancora bisogna lavorare. Come diceva Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Guarda, è talmente vero quel che dici, che io, certe volte anche noi tifosi abbiamo una mentalità, forse perché abbiamo noi napoletani, tifosi napoletani, la atavica paura di non riuscire ad arrivare al traguardo. Per cui ad ogni partita, Napoli 3-0, mentre Spalletti diceva andate, andate, prestate, prestate, quanta gente è a casa? Ma perché non lo leva? Ma fallo ripusare. È vero? Sicuramente. Allora io inviterei tutti ad un esame di coscienza e ad ammettere con se stessi di quante gliene abbiamo dette sul 3-0, non è la prima volta, dicendo ma fallo ripusare. Allora c'è Kim che è diffidato, sono 22 anni, che tutti gli diciamo perché non è uscito. E quando si è scaldato Ostigard, tutti, ah, meno male. No, ma Ostigard è un signor giocatore. Certo, e tra l'altro tra i più forti di testa del campionato. Sicuramente. E dice, tutti pensavamo, ma leva Kim se lo guarda. Quando abbiamo visto Racamani uscire, quanti ti hanno detto, ma che fa? Allora, invito gli amici tifosi a certe volte ad essere appunto, noi dobbiamo essere come i nostri giocatori, ragazzi, vi invito veramente con il cuore. Ma è un cuore veramente di tifoso, perché quando, come dissi nell'altra trasmissione, mi chiedono se sono sportivo, io dico no. Se si tratta del calcio e del calcio di Serie A, io non sono sportivo, io sono tifoso del Napoli. Per cui, lo sport, in tutto, mi vedo tutto, anche il cricket, l'hoche su ghiaccio e il curling con le ramazziche. I racchettoni. L'hoche su prato, qualsiasi cosa. Ma quando c'è il Napoli, non riesco ad essere, voglio dire, al di sopra delle parti. È vero, anche io, io vivo, come tutti noi, quella classica situazione da sabato del villaggio, no? Da attesa spasmodica, che però viene condita anche da quel sentimento, da quel retrogusto di voler sembrare forti, per non dire, sì, ma veramente mi mettono a dire paura, per usare un eufemismo inglese. E allora dobbiamo arrivarci con il lavoro, con l'applicazione, con l'assoluta dedizione al lavoro. Benissimo fa il popolo napoletano a cominciare ad imbandierare la città, ad abbellirla. Mi raccomando, però non rovinate i monumenti. Se non mettete, non colorate, vi prego, che ci appoggiate una bandiera o mettete una bandierina in mano, va anche bene. Ma non deturpate, perché ricordatevi, siamo una capitale del mondo, della cultura, dell'arte, della storia. Forse a qualcuno non farà piacere, ma grazie a questa società e a questo presidente siamo anche una realtà nel mondo, nel calcio. E allora ricordiamocelo sempre. Per dirvene una, oggi è il compleanno di Kroll, che è una grande gloria in Casacca Azzurra, ma non è dato a Napoli, ho vissuto a Napoli, se non quei tre anni. Allora vi voglio ricordare, faccio un piccolo appunto, una mia divagazione storica. Tu sai che io ho questa passione per la storia e la cultura, può essere utile. Domani non gioca il Napoli, neanche domani in questo weekend, diciamo. Tutti abbiamo quella sensazione di sentirci un po' orfani. Come dicevo in un mio pezzo stamattina, dicevo, la domenica senza il Napoli è come il ragù senza le tracchiolelle, è come l'autorto senza anzogno, la funicolare senza corrente. Cioè, manca qualcosa. Allora ricordiamoci che oltre il Napoli c'è Napoli, che è uno spettacolo di suo. Allora approfittiamo in questo fine settimana, non credo anche le giornate del FAI, ci sono dei musei, delle cose belle da visitare. Facciamolo, prendiamo le famiglie, prendiamo gli amici, facciamo un gruppo di amici, uscia, andiamo a vedere. Tra l'altro camminerete circondati di azzurro. Sarà una sensazione meravigliosa. Passeggerete nell'azzurro, vi sentirete già a un po' d'Italia. Come tu valorizzi, come i defusi valorizzano il Napoli, hai detto giustamente. Si deve valorizzare Napoli come città. E non ci dimentichiamo che Napoli, a prescindere da una cultura impressionante che ha avuto nei secoli, è una città di origini greche. Sì, abbiamo ancora i decumani che sono grechi, perché per noi i romani sono troppo moderni. E questo voglio arrivare. Noi siamo ancora più antichi di Roma. Voglio dirti una cosa. Domani farò torto a qualcuno, perché chiaramente non posso ricordare tutti. Ci vorrebbero 18 puntate. Però domani è il 25 marzo. 25 marzo è il compleanno di tre personaggi che in qualche modo hanno lasciato a Napoli un segno indelebile. In ordine di tempo, parliamo del 200, del 1260, è il compleanno di Corradino di Svevia. Corradino di Svevia, quindi il re, il principe bambino, il principe fanciullo, che torna dalla Baviera per amore di Napoli e per amore del suo regno, di quello che riteneva il suo regno. Vi lascio perdere tutta la storia. È il processo farsa con cui Carlo D'Angelo condanna e lo decapita a piazza Mercato. La parte bella, bella se si può dire così, è che la leggenda vuole che la colomba bianca passi durante la decapitazione, macchiandosi del sangue del principino. La colomba vola verso nord e incontra il corteo della regina, Elisabetta di Baviera, la mamma, che veniva a cercare di salvarlo. Non facendo in tempo, Elisabetta consegna tutto quello che era il riscatto che avrebbe dato per liberarlo ai monaci carmelitani affinché custodiscano per sempre il corpo di Corradino. Il mausoleo, la tomba di Corradino di Svevia, è alla chiesa del Carmine, proprio dietro l'altare, vicino all'immagine della Madonna del Carmine. È una bellissima cosa. Se non siete stati, andatela a vedere, andate a visitare la Madonna del Carmine e la tomba di Corradino. Verrete a sapere cose molto particolari che questa città ha sempre nascosto, come quella di Hitler che voleva portare via il corpo pensando giustamente se un tedesco deve stare in Germania. E i monaci spostarono il cadavere. E qui dice, ma non c'è niente, non sappiamo, non sappiamo. Qualche secolo dopo nasce Anna Maria Gallo, poi diventata Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, Vigo III Re a Toledo, la santarella dei napoletani. La sedia. La prima santarella, bravissima, con la sedia di Santa Maria Francesca, dove tante ragazze vanno a chiedere la grazia di diventare mamme. Anche quello è una tappa bellissima. Poi figuratevi, facciamo sacro e profano, o sacro e sacro, come vogliamo vederla. Vigo III Re Santa Maria Francesca, qualche metro più in là, il murales di Diego. E poi, continuiamo col calcio, se no qualcuno dirà che sono noioso, ma quando si parla di Napoli il mio cuore si allarga. Oggi è anche il compleanno dell'ultimo re francese di Napoli. Gioacchino mi ha detto a legge e a Gioacchino lo ho detto, cioè Gioacchino Miurà. Gioacchino Miurà è cognato di Napoleone. Quello che vedete nella statua delle varie statuodere di Napoli, quello che si indica il petto, perché al momento della fucilazione in Calabria, lui dice mirate al petto, risparmiate il volto. È da lui stesso l'ordine di fucilazione. Dite, ma io che vado a vedere una statua? A parte che sarebbe cosa buona andare a vedere Palazzo Reale. Ma, se volete ricordare Gioacchino Miurà, potete andare a vedere il real orto botanico a Via Foria, potete andare a vedere l'osservatorio di Capodimonte, tutti frutti del lavoro del cognato di Napoleone di Gioacchino Miurà. E sono tutte, per esempio, possibilità. Oppure, se non volete stare al chiuso perché esce una bella giornata, basterebbe fare due passi per Via Posiglipo. Tu dici che c'entra. Gioacchino Miurà è quello che inaugura i lavori per la creazione di Via Posiglipo, quindi la strada che dal Mergellina porta alla collina dall'altra parte. Fatto questa divagazione storica che mi auguro cogliate, soprattutto perché, ve lo ripeto, ricordatevi, siamo primi nel campionato di calcio, ma possiamo essere primi per distacco nel campionato dell'arte, della cultura e della storia. Ritornando a noi e quindi al calcio, io vorrei affrontare con te un argomento che sinceramente quasi mi imbarazza nella sua enormità, che sono i dati statistici. Nel frattempo chiedo sempre al bravissimo Davide Tramontano in regia di far girare dietro di noi le immagini di questi meravigliosi ragazzi che ci stanno dando tutte queste immense soddisfazioni. Mello, io ti dico dei numeri sui quali possiamo discutere insieme. Allora, finora in campionato sono state giocate 27 partite, il Napoli ne ha vinte 23, ne ha pareggiate due, ne ha perse due con Inter e Lazio, ricordiamo, e ha quindi 71 punti. Ora io ti chiedo, se io appunto ti vado a domandare il miglior attacco di questo campionato, chi ce l'ha? Secondo me il Napoli. Non lo so. E te lo dico io. Il Napoli che ne ha fatti 64 in 27 partite, quindi parliamo di medie imbarazzanti. Tu direi, allora i problemi li avremmo in difesa? No. La miglior difesa è casualmente quella del Napoli, che ha preso solo 16 gol in 27 partite. Vabbè, però, qualcuno dirà, però con un gioco sparagnino, magari, sai, difesa e contropiede, quindi tu mi chiederai chi ha il maggior possesso palla. Io ti dirò, la cosa ti spaventerà, il Napoli, con 31 minuti e 40 secondi di possesso palla medio. Però ci sono delle classifiche in cui non siamo sicuramente al primo posto. E c'è, per esempio, la squadra che ha il maggior numero di assist, che in questo caso è il Napoli, con 49, però sul numero dei tiri, invece, verso la porta, non siamo, vediamo chi è il primo, mi dicono che è il Napoli, con 444 tiri. Mentre il capo cannoniere è sicuramente uno di Eosimena, quindi 21 reti per il grande Victor, però invece con il numero degli assist, no, perché il migliore assist man di Serie A, con 10 assist, è... E' Quaraschelia. E' Quaraschelia, sì. Quindi praticamente, io sto cercando di trovare una cosa in cui non siamo primi. E siamo primi anche a livello economico. E qui c'è da lodare il Presidente. Perché le altre società hanno bilanci pressoché in rosso, tutti, comprese anche piccole società. e il Napoli è inattivo. E qua bisogna dire grazie ad Aurelio De La Ventis. Però ti faccio una domanda, perché io ho trovato un'area di miglioramento, e questa sicuramente, secondo me qua, è una cosa su cui dobbiamo effettivamente ponderare, perché è un'area che proprio non mi piace. Secondo te, quanti, diciamo, pacchetti di patatine vengono venduti? Perché là c'è da stare qualcosa dove non siamo primi. Assolutamente. Ma cerchiamocelo, cerchiamocelo. Quante polente si vendono durante il Campeonato di Serie A? Vimbrulè fuori allo stadio, a San Paolo se ne vendono pochissimi. Là saremo in zona retrocessione. Allora, ma non finisce qua, perché, per dirvi quanto il gioco corale del Napoli... Guarda questa coppia, come la vedi questa coppia di questi due? Io spero che questa coppia rimanga parecchio tempo qua. Questa è la mia speranza. Almeno un altro paio d'anni. E questo è il mio timore invece, che questa coppia scoppia. L'anno prossimo scoppia. Ma, ragazzi... Però non gli si può dare torno. Ne parleremo tra qualche minuto nell'area magari appunto del futuro. Ma sinceramente, e poi lo affronteremo dopo, davanti ad un'offerta imbarazzante, non ricordo il termine che ha usato il Presidente, quella là che non puoi dire no, ma cosa dici? Soprattutto quando ad un ragazzo come Osimène, che conosce veramente cose... Diciamo la vita brutta, la misera, la difficoltà, davanti a un'offerta monstra, di quelle che ti quadruplicano quello che guadagni, cosa fai? È normale che accetti. Esatto. Allora, andiamo a vedere. Però io ti faccio una provocazione a questo punto. Tu che ami le statistiche, mi devi dire dei grandi giocatori che sono venuti a Napoli. Sì. Parliamo dell'era dei Laurentiis. Certo. Quali andati via da Napoli hanno fatto realmente una grande... hanno continuato... fatto una grande carriera? Solo Cavani al Paris Saint-Germain. Ma nel Paris Saint-Germain... Iguaina, la Juventus, ha vinto lo Scudetto, ma ha giocato... Però penso a una cosa. Sia Cavani al Paris... Ha vinto lo Scudetto, Cavani al Paris. Sì, però era forte. Sì. Io le ricordo le partite di Cavani al Paris. Iguaina ha vinto lo Scudetto. Sì, ma non ha giocato bene. Ti faccio una domanda. Non dico io perché sarebbe, diciamo, superfluo. Ma secondo te, se andavi tu a fare il centravanti del Paris Saint-Germain, commessi, Neymar, Bapé, all'epoca, Verratti, Donnarumma in Porta, quella gente là, secondo te, qualche cosarella, tu la facevi, ti facevano le sponde addosso, ti rimbalzavano il pallone. Oppure dicevano, mettiti là e non dare fastidio. Certo. Ma poi, dal punto di vista, è vero però, tu fai una riflessione che è del tutto giusta, basta vedere il caso di Calidù. non è neanche più quasi titolare nel Chelsea. Vedi? Ennio, Ennio Vallarelli ci dice, oggi il problema non è l'offerta di 150 punti che dai a De Laurentiis, il problema è l'ingaggio. 12 milioni all'anno a Ozymane, solo il Pari li può dare e sostenere. Anche qualcun altro in Premier, perché poi il sogno di Ozymane è quello della Premier. Manchester United, o il City, penso più il City che lo United. E' a Oland che gli dicono? Il City è bloccato perché ha Oland, per cui lo United potrebbe... Però quando hai visto il Pari, è stato inquisito il... Questa è un'altra cosa che è da vedere di sviluppi, perché il giocattolo si tratta del Pari, perché vincere il campionato francese con quei mostri che hai in squadra, pure io se alleno io lo vinco, insomma senza un bra di dubbio, ma in Europa sono dieci anni che il Paris Saint Germain non arriva al di là della semifinale, neanche. Purtroppo, purtroppo o fortunatamente per noi, la Champions dà sempre la possibilità a tutti di vivere un sogno. Tu mi dirai perché. Io non voglio parlare del campionato, figurati se voglio andare con i sogni oltre quello che ha. Tu poi mi conosci, ripeto, da qualche settimana, per cui sai io in realtà cosa penso e qua sotto cosa potrebbe accadere. E oggi si è verificato un'altra cosa, perché io ne parlavo con amici. Le sonnero di Nagelsmann? Che è l'unica squadra... Sì, non sto parlando, fai conto che non stia parlando. Ah, ok. L'unica squadra che io veramente temo in Champions è il Bayern Monaco. Era il Bayern Monaco. E oggi è stato esonerato l'allenatore. Però ti dico, per quelle che sono le mie informazioni, Nagelsmann in realtà fa meno paura di Tuchel. Quando in Champions c'è un cambio di allenatore, io, e l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle col Chelsea, che venne con Di Matteo, venne la mattina praticamente... E ha vinto la Champions. Esatto, venne qua e poi vinse la Champions. Io quello che volevo dire era... C'è un quarto di finale con una squadra forte, rispettabilissima, campione d'Italia in carica, attenzione. Non ci lasciamo ingannare dalla differenza punti in campionato. Assolutamente. Perché la Champions è un'altra cosa, perché sono due partite, perché Pioli è uno a vezzo che ti incarta le partite, eccetera, eccetera. Però, voglio dire, credo che chiunque tifoso azzurro a cui avessi chiesto prima del sorteggio vorresti il Milan o il Real Madrid. Infatti ci sono stati i tifosi inglesi che si sono lamentati dicendo che era stata fatta tutta una campagna per fare andare il Napoli in Champions, per fare andare il Napoli in finale. Noi dobbiamo vedere, sai cosa? Dimmi. Il reparto geriatrico del Milan in avanti. Quello è il problema. Se l'RSA è aperta. Se l'RSA è aperta, perché l'età media è 46 anni, insomma, allora vai. Allora, io so che comunque Pioli ti ha anche telefonato. Sì, e vado io. Allora, però ti dico una cosa. L'anno scorso, e mi viene in mente l'amico Pietro, che ci prendeva in giro, noi lo prendevamo in giro, ci dicevano giruzzo e giruccio, noi lo chiamavano giruzzo e giruccio. Ci ha fatto due. Ci ha fatto il gol e ci ha vattuto in casa. Però, ok. Quindi, la partita secca. Però, ipotizziamo che con la mano di Dios, come dice qualcuno, riusciamo a passare questo turno. Passato questo turno, potremmo avere, cambiamo colore delle strisce, oppure potremmo viaggiare. E mi fa più paura il Benfica. E andare al Dalus. Il Benfica mi fa più paura. Guarda, sarò controcorrente, controcorrente, però è bello perché poi quando nelle trasmissioni c'è differenza di scordi di opinione interessante. Io invece preferirei incontrare il Benfica e non l'Inter. Posto che abbiamo superato il mese, già mi sentirò dire, tu perché male che supera... Stiamo facendo un discorso così. Un pur parler, come dicono quelli che parlano bene. Esatto. Il Benfica è sicuramente un'ottima squadra, ma è una squadra che gioca. Non si chiude come l'Inter. L'Inter, io vorrei ricordare anche la partita che hanno vinto. Che abbiamo perso a Milano. Esatto. A mio parere, l'Inter ti può mettere in grandissima difficoltà. Innanzitutto perché è una squadra molto meno tecnica del Benfica, ma molto più fisica. Quando vai a incontrare quelli dell'Inter, li senti in campo, ma li senti. Però ipotizziamo ancora che noi, sempre pur parler, mani sopra il tavolo, riusciamo a... Assolutamente. ...a superare questa cosa. Ragazzi, a quel punto chi c'è c'è? È la partita secca. Allora io lo voglio dire, è un caro amico, vive in Germania, quindi forse Fabrizio è tornato a... Fabrizio lo conosci bene. Benissimo. Esatto. Voglio dire che lui ha provveduto ad acquisire biglietto e albergo per Istanbul. Non si può mai sapere. E' quando tutto manca, non ci vaga. Allora, perché vi dico questo? Perché potrebbe essere un sogno talmente bello. Oggi l'amico Francesco Iovia mi diceva, Salvatore, pensa che questo fatto della Champions è talmente incredibile che quasi oscura il fatto che stiamo vincendo lo scudetto. Cioè, io quasi quasi non vorrei che qualcuno dice, sì, vabbè, abbiamo vinto, ma ora rimane la Champions. Ragazzi, non è così. Ragazzi, sono 33 anni, 33, che non si vince un titolo qua. Con Albertino Bigon. Esatto. Il Napoli-Lazio gol di testa di Baroni, oggi allenatore del Lecce. Allora, ragazzi, qua dobbiamo stare sul pezzo, attentissimi. Esiste adesso una sola partita nella nostra vita, che è quella del 2, domenica delle palme. Milan-Napoli, Napoli-Milan. Napoli-Milan, al Maradona. mi raccomando, grande attenzione. Non è fondamentale, ricordate sempre, viaggiamo con 19 punti di vantaggio, per cui, il problema è tutto degli altri. Quindi non ci dobbiamo né buttare all'arma bianca, perché dobbiamo vincere. Noi possiamo onestamente fare da mo' alla fine 11 partite, 11 partite. Perché vi dico questo? Ma mi direte la matematica... Eh, ma contemporaneamente dovrebbero vincerle tutte e 11. Faccio una domanda, se la Lazio, perché io l'altra il fatto del ripescaggio non considero neanche, non so, anche perché poi tu mi parlerai, se vorrai, di quello che potrebbe portare il procedimento successivo, ma noi parliamo di calcio, quindi... la Lazio oggi che è la seconda in classifica, non vorrei sbagliarmi a 52 punti. 19 punti in meno di noi. Ora vi faccio una domanda, la Lazio le vince tutte e 11, perché Sarri incontra la Madonna di Medjugorje e lo benedice e fa 11 vittorie su 11. Quanti punti sono? 33. 33. Come si dice a Napoli, è 52 che ne volevo, fa 85. Ora mi domando e dico se io ne ho 71 e ne vinco 5, quanti punti sono? 15. E 71? 85. 86. E quindi... E' finita. Vi saluto S1. Quindi, con questo però che vuol dire? Ma tu da un lato ci esalti e da un lato... Sì ragazzi, perché io sono più esaltato di voi, io vorrei fare una festa che comincia stasera, io e l'avvocato Caserta vestiti da ballerine brasiliane, fare la samba da Giuliano fino al Vomero e ritorno almeno 3-4 volte e vi inviterei a venire a vedere uno spettacolo del genere. Dall'altro chiaramente sono costretto a frenarmi perché lo devo fare, perché ci mettiamo paura in realtà ci siamo napoletani. Esatto. Non dimenticare che siamo napoletani. Esatto. Quindi vi invito anche a voi a questa riflessione. Come si può di festeggiamo? È uno simbolo. Festeggiamo moderatamente. Come a Napoli si dice a Luc Zittucic. A Luc Zittucic. Bravo. E questo è lo simbolo. Yesh Rind che è una delle frate che si dice a Napoli. Esatto. Allora sull'argomento vi invito a riflettere qualche minuto di sosta mentre io e l'avvocato Caserta ci procuriamo Ci pensiamo da brasiliani. Esatto. Procureiamo i costumi. Tra qualche minuto siamo di nuovo con voi. La regia sta cercando anche il costume per noi. Grazie a tutti. Consulenza formazione nuove metodologie con strumenti informatici e multimediali e specifici percorsi individuali è Consorzio Andromeda Progetto Gol Formazione 4.0 Formazione Medica e CM Garanzia Giovani e percorsi di laurea e Campus Consorzio Andromeda Ente di formazione professionale accreditato dalla regione Campania Siamo a Casa Vattore in via dell'industria trentasei Visita il nostro sito www.consorzioandromeda.it Seguici su Facebook ed Instagram www.consorzioandromeda.it 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 Eccoci rientrati in studio, nel frattempo c'è l'amico Armando Grimaldi che ti manda un caro saluto, abbiamo lasciato la cosa in sospeso per quello che riguarda il futuro, le possibilità del Napoli in questa Champions. Nel frattempo poi mi arrivano un sacco di domande degli amici da casa, allora Francesco ci chiede cosa ne pensate delle dichiarazioni di Fabio Caressa sul Milan favorito in Champions? Caressa Sky ha detto sì, il Napoli in teoria è favorito, ha detto però, per onore di verità, però la Champions è la casa del Milan, ha giocatori in grado di fare la differenza, soprattutto i giocatori che possano strappare e dare il cambio di velocità, penso alle A.O. Ora vorrei ricordare con grande rispetto al dottor Caressa che io ricordo con il Napoli uno col nove e uno col settantasette che strappano fuori grotto e finì a Madonnina e tornano due volte. Io mi permetto di aggiungere qualcosa, è vero sì che la Champions è stata casa del Milan. Ah quindi non vale per rivere Pierino Prati? No, anche Lidl ma poteva nel 63 che vince. Il Grenoli. Esatto, il Grenoli famoso del Milan. Ma c'è un problema che bisogna considerare, che per questo io non mi rispecchio in quello che ha detto il Carissa. L'esperienza, è vero che noi siamo carenti di esperienza, ma il Milan al di fuori di due, tre elementi, Ibrahimovic, Giroud, Magnan, Teo Hernandez, Leao non ha esperienza di Champions, non ha esperienza di Champions. Poi non ci dimentichiamo che Tonali, cioè chi ha De Chetelare quest'anno? Chi? Non lo so, un'annata disastrosa nel Milan di De Chetelare, hanno speso un bel po' di soldi, ma sicuramente non hanno. Se l'avesse preso il Napoli. Saremmo presi tutti con De Laurentiis. Tutto, sarebbe uscito di tutto. E quindi praticamente a livello di, se sicuramente il Napoli come gioco è favorito, ma c'è da dire che l'esperienza del Milan non è superiore. A livello societario probabilmente, ma neanche, perché ricordiamoci che il Milan che ha vinto le Champions è quello di Berlusconi, non quello del fondo. E quindi l'esperienza del Milan e l'esperienza del Napoli in questa Champions, fatta eccezione di due, tre elementi, per me si equivalgono. Guarda, io, ripeto, tra l'altro è una combinazione strana quella che avverrà in questo mese di aprile, perché praticamente ci incontreremo tre volte e a cavallo di Pasqua, ma bisogna vedere chi fa il capretto. Esatto, esatto. Allora, tieni per se noi ci vediamo la domenica delle Palme, poi ci vediamo il mercoledì in Albis e poi il martedì dopo. Io credo che sia fondamentale innanzitutto affrontare la partita del 2, perché io ho la sensazione, anzi, confortami con la tua opinione o anche con quella degli amici da casa che ci seguono. Io credo che, non Spalletti, perché Spalletti giocherà esattamente come sempre, ma io credo che Piori farà proprio due partite diverse, quella di campionato rispetto a quelle dei Champions. E penso anche per un motivo, tra l'altro si va incontro ad un record di incassi a Milano, nonostante, vedrete, vieteranno la vendita ai biglietti. Già hanno venduto 32 mila biglietti. Ma vieteranno la vendita ai napoletani, poi ai campani, poi a tutti quelli che si chiamano Gennaro, Salvatore, Pasquale, Ciro, così cercheranno piano piano. Dici come ti chiami tu? Ambrogio Esposito, per andare a vedere. Come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo nel film che faceva, non mi ricordo come lo diceva, ma perché era meridionale, per non farsi sentire dai milanesi. Vediamo nel frattempo dei commenti che ci fanno degli amici da casa. Ecco, andiamo a leggere. Bramilla Fumagalli, ecco, mi è sovvenuto come mi chiamavo. Allora, eccolo qua. Buonasera, sono Guido. Ciao Guido, grazie per essere con noi. In merito alla Champions, non temo la partita col Milan, perché l'arbitraggio è straniero. Bravissimo Guido. E poi siamo nettamente più forti. Grazie, buona serata, grazie a te per essere con noi e buonissima serata, spero ti stia divertendo e se hai qualche altra idea, qualche altra domanda, siamo qui per te. In effetti sì, anche questa dell'arbitraggio non è cosa da poco. Ma non c'è da temere il Milan per l'arbitraggio. E, vabbè, diciamo che no, 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 nel senso che in Europa c'è un modo di arbitrare diverso, c'è un metro di giudizio diverso. Dicevo, io sono convinto, loro stanno facendo, faranno il record di, probabilmente, di incassi, perché penso che arriveranno a sfiorare, se non superare, i 10 milioni di euro di incassi. Così poi, andiamo a vedere quanto costano i biglietti, eh? Perché poi dopo, diciamo sempre... A buon intenditor poche parole, credo anche che loro in questo momento abbiano un problema. Nessuna delle squadre impegnate per la conquista dei tre posti, nota come sono tre i posti liberi ormai, e vai, per la Champions, può fare a meno di entrarci, perché oggi l'ingresso in Champions porta un ingresso di danaro fresco, di proporzioni notevoli. Credo che nessuna squadra possa, con leggerezza, fare a meno di questo. E considera quante squadre stanno... Esatto. Ad oggi... Anche l'Atalanta. Ad oggi, le due romane, le due milanesi... La Juventus. Chi? La Juventus. Ah, c'è? C'è, c'è. E la Talanta. Anche se, perdonatemi la battuta, faccio una battuta alla Salvatore. La Juventus adesso si sta con la sponsorizzazione come il gas. Vi ricordate la pubblicità? Il metano ti dà? Una mano. Adesso è Rabiot che ti dà una mano. Scusatemi la battuta. Ti dà una mano. Allora... Ma guarda, non si può prendere con le mani? Non lo so. Ah, non so. Se giochi a palla a nuoto, sì. Io ricordavo una cosa... Vabbè. Comunque, al di là di questo, perché non sappiamo se ridaranno i 15 punti, anzi poi ti chiedo un parere da questo punto di vista tecnico, al di là del tifo e della battuta che chiaramente noi ci dissociamo da ogni forma di offesa o di... Sono solo scherzo. Certo, ci mancherebbe. Però, poi mi dirai qual è la tua posizione dal punto di vista strettamente giuridico, quindi professionale. A cosa va incontro la Juventus? Soprattutto, al di là dei 15 punti, consideriamo... Per adesso manteniamoci all'aspetto veramente calcistico, tecnico. Ipotizziamo che gli ridanno i 15 punti, vuol dire che la Juve è fortemente nel gruppo della Champions. Quindi, a questo punto, tra 4-5 squadre, le due romane, le due milanese, la Juve e l'Atalanta, tra 5-6 squadre, ne devono uscire 3. Ora, il Milan che viene qui, considera che mancano a quel punto 11 partite, può permettersi di venirsi a giocare un risicatiello pareggio? Oggi il Milan, non ho con me la classifica, ma dovrebbe essere proprio, in questo momento, finisse oggi il campionato, dovrebbe essere fuori, però non voglio dire cose sbagliate. No, è quarta. Quarta con 48 punti. È quarta. Ma nel frattempo... No, io... Nel frattempo rispondo anche a... Quello che posso dire sulla Juventus, una cosa con la quale do ragione ad Allegri, è che non si è mai visto in nessun campionato professionistico togliere 15 punti ad una squadra a campionato in corso. E su questo ha ragione. Però quello che ti dicevo prima, le conseguenze con il famoso foglio che è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza, e qui parliamo a livello giuridico, non a livello di scherzo o di battuta su quello che possiamo dire sugli arbitraggi e su tutto. Il problema è che il falso è un bilancio, il falso è un bilancio, è un reato penale che determina delle conseguenze per coloro che lo fanno, delle conseguenze gravi. E quello che dicevo pure prima è che un'altra difficoltà è che la Juventus, essendo comunque una società quotata in borsa, è... e per questo non può passare, come diceva Totò sotto semaforo, una cosa del genere. Perché essendo una società quotata in borsa, i bilanci sono controllati e vigilati dalla Consob, che è un organo di Stato. Quindi bisogna vedere come si evolverà questa situazione. Come si evolverà? A me dispiace, ma più come italiano, per l'immagine che viene data all'estero del calcio italiano. E mi dispiace, lo dico. Il presidente De Laurenti si ha dichiarato, Scudetto, con altre regole, l'avremmo già vinto altre volte. In 2018? Però... Vogliamo ricordarci di un Inter-Juventus? Vabbè, ma... Questo... Salvatore, purtroppo ci sta. Purtroppo in Italia è un po' più radicato questo tipo di problema. Allora facciamo una cosa, se sei d'accordo. Vinciamo sul campo, sempre, con onore, con dignità, con onestà. E dico la verità, mi auguro che tutto si risolva bene per il calcio italiano, perché comunque il calcio ha bisogno di tutte le grandi squadre e d'altronde il riferimento di sempre. Quando ci si creava un avversario è sempre stato quello lì. E non voglio perdermi il gusto di vincere sul campo e non sentirmi dire eh, però... Io voglio avere un avversario che, tra l'altro, sul campo sta andando fortissimo. Perché si deve dire anche questo, nonostante infortuni, problemati, scelte di mercato che non mi hanno trovato d'accordo. Torniamo al discorso Champions. Sempre Guido è in atto una guerra per l'ingresso in Champions, che porta il denaro per competere ad alti livelli, come dicevamo. Ma il Napoli, che osserva solo questa lotta, può in anticipo rispetto agli altri fare potenziale affare sul mercato? Visto che non ha la cosa di dover affogarsi e pensare, devo tenere il campionato in... Può già guardare. Io sono convinto, e rispondo a Guido, che la società sportiva Calcio Napoli, nella persona di Cristiano Giuntoli, nella persona del Presidente e di tutto lo staff tecnico, perché, ricordiamoci che accanto a Giuntoli ci sono una serie di osservatori e uno staff di primissimo ordine, che è quello che consente di andare a prendere Quara a una cifra che fa sorridere pensando al valore del calciatore, che va a scavare Kim Minjè nel Fenerbahce in Turchia, che va a organizzare, a creare una squadra, un organico potenzialmente devastante in Italia sì... Grazie a Spalletti però. Esatto, ha scelto anche un tecnico. Spalletti per me è lui che ha cambiato tutto. Guarda, io ero, lo dico sempre, io ero in ritiro a Castel di Sangro e ho visto, per esempio, c'è stato un giorno che lui ha preso Osi, gli ha fatto fare la doccia, gli ha detto adesso vai fuori, perché probabilmente Vittorio, quando aveva quelle sue scandescenze per i compagni non gli passano la palla, quel gesto che all'epoca, al momento poteva sembrare ma come? Invece è un gesto importante, perché parliamoci chiaro, per chi segue il calcio da tanti anni, come noi, come gli amici che ci stanno seguendo da casa, sappiamo bene che a volte il linguaggio del corpo, i gesti in campo fanno capire tante cose, fanno capire quanta voglia c'è, quanta rabbia c'è, quanta unione c'è, non voglio tornare ad un recente passato e ad alcune partite terminate con la mancata qualificazione o terminate con una tristezza in cui... Per esempio, vedere scene come, e a parte invertite è già capitato, Oseman viene sostituito si arrabbia perché ha sbagliato il controllo che avrebbe potuto portare al gol, tira via i parastinchi, si siede fuori dalla panchina dicendo cose terribili, immagino, arrabbiatissimo, viene sostituito anche Quara, il primo gesto che Quara fa, passa vicino a Vittor Oseman e lo accarezza, gli accarezza la testa, è un gesto di vicinanza, di unione, così come Oseman, capocannoniere, sappiamo che raggiunge anche dei bonus economici con dei gol in più o in meno, prende il pallone e lo dà al compagno, vai. Vedere Quara che comunque al primo anno in piena esaltazione agonistica, sul quarto gol del Toro che tu ricordavi prima, Quara comunque ha la lucidità e la freddezza di attirare il portiere e far segnare in Don Belè, questo accade soltanto quando c'è uno spirito di squadra talmente forte, talmente unito. E allora, sono certo per tornare alla domanda di Guido, che sicuramente il Napoli sta già con grande anticipo valutando le operazioni da fare in entrata e ritengo anche in uscita. Io so anche dei nomi. Adesso dobbiamo andare via. Davanti a questo io invito gli amici da casa, vi saluto cordialmente perché le anticipazioni dell'Avvocato Caserta siamo veramente all'imbarazzo. No, perché bisogna essere, bisogna, allora, sognare sì, però bisogna essere anche concreti. Realisti più del re. Il problema è che secondo me, secondo alcune persone, Osimena andrà via, purtroppo, come abbiamo detto prima. E sai chi vorrebbe che si sente? Per me è un bel giocatore, non ha le caratteristiche di Osimena e Hoylund dell'Atalanta. Allora, guarda, io però l'ho visto, l'ho visto anche con noi. Con noi non ha giocatore. Non ha visto la palla. Io credo che il Napoli sia su altri tipi. Leading? Sì, innanzitutto per un fatto di costi. Perché credo che la bottega di Bergamo sia molto cara e io credo che il Napoli invece si rivolga verso altri lidi, probabilmente anche meno battuti e meno conosciuti. Quando abbiamo preso Osimena non era quello che è diventato. Ci meravigliamo degli 70 milioni di E. Ma chi è questo? Non lo era Cavani quando venne da Palermo. 17 milioni. L'unico era Higuain, che aveva un perché, dal Real, no? 40 milioni, lo pagò. Ma dal Real. Però era uno che poteva dire io sono Gonzalo Higuain. Quindi io credo che il Napoli abbia le idee più che chiare, chiarissime. Poi, sapete, il mercato è fatto di tante cose, no? Io per anni mi sono sentito dire che Coulibaly era già stato venduto. Puntualmente arrivava il mese di luglio, andavamo in ritiro e c'era Calidù. Meno male che c'era Calidù. Che resta comunque nel nostro cuore perché un ragazzo che ha dato cuore e anima a questa maglia e l'ha sempre onorata, dal primo all'ultimo giorno che è stato qui. E ogni anno, poi si è arrivati al punto in cui non era più possibile trattenerlo. E anche lì è stata un'opera mirabile del Presidente che è riuscito a farsi pagare un cifrone a 6-7 mesi dalla scadenza. Così come per Fabiano. Ora, se andiamo ad analizzare, il Napoli fa sempre contratti per i quali i giocatori per andar via devono per forza parlare con la società. Per cui in qualche modo il Napoli detiene il power contract, quello che parlano bene. Che insegna è andato via a parametro zero? Ha scelto il Napoli di mandarlo a parametro zero, come ha scelto per Mertens. Quando ci sono state le offerte, sono state rifiolate, sono state fatte richieste probabilmente esorbitanti, ma qua prenderemo posizioni personali che io ho più volte ribadito. Per cui hanno fatto benissimo quelli che sono andati via a guadagnare cifre folli e quindi hanno tutta la mia stima, comprensione e appoggio nella scelta. Il Napoli era a quel punto nella necessità pratica di dover sostituire giocatori che avevano dato, a mio parere, veramente tutto quello che potevano. Per cui a un certo punto occorre un cambio, occorrono motivazioni, occorrono cose diverse. E io credo che oggi nel Napoli ci siano comunque dei soggetti a rischio, nel senso che sono più papabili per un eventuale cambio di casacca in uscita. A mio parere, per esempio, Lozano, Zirinsky, perché, attenzione, Zirinsky è uno che ha voluto rimanere a Napoli, anche rinunciando a bei soldini, però è a un anno, è da tantissimi anni a Napoli, allora continua ad essere tecnicamente uno dei calciatori più forti che abbia il campionato italiano, però potrebbe essere uno tra. Lo stesso Lozano è uno che ha la possibilità di... Però, ripeto, quello che ci diciamo noi qua sono teorie, sono discorsi da tifosi, da appassionati, poi solo il Napoli saprà... Ecco qua, infatti, Guido ci dice, concordo, il Napoli è uno dei club che più monitora il mercato, proprio per il bilancio sano, la certezza di fare la Champions l'anno prossimo. Scovare talenti come Kvara, Kim, sarebbe l'ennesimo schiaffo ad avversari che non ce l'hanno sta. Complimenti al Presidente, aggiuntoli a quelli che visionano campionati poco conosciuti. Ecco, in un calcio moderno, quindi un calcio che non è più quello nostro delle figurine senza internet, dove ti basavi su quello che dicevano i giornali magari stranieri, oggi campionati, chiedo scusa, minori, tra virgolette, meno conosciuti, voglio dire il campionato georgiano, di dover dire, ma non andiamo in fissa perché c'è Kvara, di Kvara ce n'è uno, però sicuramente ci saranno... C'è un altro che stiamo ritorando il Napoli, il nome non me lo chiedere perché... Talenti che in giro per il mondo vanno considerati e saranno sicuramente valutati. Oggi è un calcio diverso, Nello, da quello che conosciamo noi, oggi è un calcio dove ragazzini, perché tali sono, di 15-16 anni, hanno agenti, rappresentanti, i grandi club li contattano, cioè se li crescono. Allora, come pensi che il Napoli possa combattere questi grandi club se non attraverso... Solo così. Esatto. Anche perché prendere un giocatore di 40 anni, 38 anni, come lo è Girù, quando è arrivato al Milan, 37 anni, che senso ha? Non ha più il life motive che il presidente De Laurentiis ha sempre detto. Cioè, comunque crescere dei giovani... E però, in questo caso, ringraziamo al cielo, è arrivato il momento di finalizzare, dopo 18-19 anni di presidenza, finalizzare il lavoro fin qui fatto. Anche perché noi abbiamo vissuto degli acquisti... E qua sempre grazie anche alla lungimiranza di De Laurentiis. Perché se tu pensi, noi abbiamo... E' l'ultimo, se ne è andato quest'estate, del Driss Mertens. Abbiamo vissuto per anni con gli acquisti fatti quando c'era Benite Zalennatore. Abbiamo vissuto per anni. A me è dispiaciuto molto che se ne è andato al Biolo, perché al Biolo per me era un difensore eccezionale. E abbiamo vissuto. Poi è arrivato Sarri, che ha portato... Lasciamo stare i sai. Il gioco però... Il gioco c'era e ha portato Zelischi. Quindi anche gli acquisti sono funzionali all'allenatore. Perché sicuramente Giuntoli è un grandissimo direttore sportivo. Lo ripeto perché già l'ho detto prima. Ma Spalletti, che è una vecchia colpe, perché Spalletti comunque è un grandissimo allenatore, secondo te non aveva già visionato, non aveva già visto Quara e Chim e dire prendimeli subito questi due, che sono funzionali al mio gioco? Sì, io credo, tra l'altro ecco, credo un'altra cosa fondamentale. Il gioco del Napoli è uno spettacolo. È uno spettacolo da vedersi. È uno spettacolo in Italia e in Europa. A questo punto sicuramente i calciatori che verranno saranno comunque sempre funzionali, come dicevi tu, al gioco che vuole l'allenatore. E saranno motivati a venire a Napoli per la progettualità se dovesse continuare adesso. Ma tra l'altro oggi una squadra che vince ti dà la possibilità a te calciatore di dire io vado in un palcoscenico adesso di livello internazionale. Il brand Napoli è un brand che oggi nel mondo si conosce. Oggi non siamo più quello di tanti anni fa. Oggi siamo quelli che, ripeto, potranno probabilmente freggiarsi del titolo, potranno... Ci è andata male di tutto, siamo ai quarti di Champions. Quindi voglio dire, potremmo essere anche una meta ambita per una squadra, per un calciatore, attenzione. Una meta più che ambita. E auguriamoci da questo punto di vista che riusciremo a cogliere il traguardo. Chiedo scusa ancora, messaggi. Concordo con Nello Armando sull'Albiol il fatto che il lavoro fatto da Benitez abbia fatto vivere il Napoli per 5-6 anni. In effetti sì. E io dico non solo dal punto di vista tecnico e tattico ma dal punto di vista della mentalità. Quando Benitez diceva dobbiamo stare spalla spalla perché non abbiamo la potenza di altri club quindi l'unica cosa che ci può aiutare è aiutiamoci stiamo uniti, stiamo stretti ne dico un'altra stiamo vicini alla squadra stiamo vicini al di là dei pensieri dei singoli nel frattempo ancora chiedo scusa grazie Guido e grazie va a te il tuo non è un umile ma un importantissimo contributo alla trasmissione noi cerchiamo di avere appunto la pacatezza, l'equilibrio che tu ci riconosci e di cui ti ringraziamo è una scelta e infatti vedi oggi c'è solo Nello con me altrimenti c'erano due o tre anzi vi do una piccola anticipazione per la prossima settimana sorprese importanti e la nostra scelta è stata quella di voler chiacchierare tra amici tifosi ma professionisti tifosi competenti tecnici tante volte è stata e tornerà il mister Barbara Nardi venuto giornalisti importanti ma sempre l'importante è chiacchierarne così come tra amici che dialogano e ti ringraziamo sia io che Nello ancora una volta per la tua partecipazione attiva perché poi ecco questo vi chiedo partecipare attivamente noi vogliamo essere anche una voce per i tifosi abituati a seguire soltanto la tv o il messaggio che ci viene mandato magari c'è un tifoso che vuol fare una domanda specifica che vuole sapere una cosa che vuol dare il suo contributo dare il suo parere e sono tutti importanti e costruttivi per cui grazie a te come a tutti gli amici che ci hanno scritto questa sera allora ci avviamo a passi velocissimi verso il saluto finale ti lascio due minuti argomento a piacere come direbbe il noto professore il noto professore Salesiani torniamo agli anni d'oro allora Andrello un argomento mi devi dire tu mi devi dire tu di cosa possiamo parlare anche a livello storico proprio perché quello che tu hai detto che è bello sì che è una è una è una chiacchierata fra amici quindi le persone che ci seguono da casa sentono l'affetto che circonda noi e circonda la società sportiva calcio napoli allora facciamo la domanda perché torniamo all'epoca del liceo dove il professore di Nello gli diceva allora caro Nello un argomento a piacere ti è piaciuto Sofocle professore a piacere vostro a piacere mio allora facciamo a piacere mio Nello il tuo ricordo più simpatico del tuo rapporto con il calcio napoli con il napoli un ricordo io ti voglio dire il primo ricordo un aneddoto quello che sia perché sei stato allo stadio con papà perché hai visto una partita io due cose voglio dire allora la prima io ho avuto la fortuna perché ne parlammo proprio ultimamente con te 1982 ero che avevo 10 anni 11 anni più o meno quell'età là ebbi la fortuna di andare a vedere al San Paolo e ne parlammo quando fece il collegamento da casa di vedere al San Paolo Napoli Dinamo Tbilisi noi perdemmo 2 a 1 lì a Tbilisi con il grande gol di Ramondiaz e un grande gol pure di un grande giocatore che nazionalità era? Giorgiano bravo Schenghelia Schenghelia esatto bravissimo e vincemo 1 a 0 con gol Paolone il baffone esatto esattamente poi ho avuto la fortuna domanda piccolo inciso quanti minuti sei ma tu eri allo stadio? esatto quanti minuti dopo la partita rimanemmo lì fin quando qualcuno non ci disse scusa qua ci sono dei cavi o chiudete voi era così è vero ma è vero io non me ne sarei mai voluto andare e poi ho avuto la fortuna se mi sta seguendo perché ci sono alcuni che in classe mia ha giocato cioè c'era un ragazzo che è il giocatore è stato capitano della Ternana ha giocato a Napoli e ha segnato Fabrizio Fabrizio Fabris esattamente era in classe mia bellissimo bel giocatore Fabrizio veramente un gran giocatore gran giocatore ottima persona principalmente perché ha avuto e ancora siamo in contatto nonostante vedi quanti anni sono passati basta che non gli parli di calcio basta che non gli parli di calcio insomma e grazie a lui se ricordi sì il Napoli il giovedì lui stava nella primavera del Napoli prima potete andare c'è giocato nella nocerina eccetera eccetera e Napoli si allenava il giovedì faceva la partita Napoli A Napoli B Napoli B dove al paradiso a Socavo e io grazie a Fabrizio stiamo parlando 1900 ti filavi vergognosamente come una cosa ignobile ho avuto la fortuna di conoscere non dico il nome non si può dire carecale ma e non si può dire del dio del calcio allora io invece grazie per questo bellissimo ricordo io invece voglio dire una cosa i ricordi sarebbero tanti perché una vita per il Napoli tanti ricordi porta però voglio dire una cosa e lo dico ai ragazzi ai bambini ormai ragazzi è il modo di dire perché anche quelli di 32 anni non l'hanno mai visto lo scudetto il profumo nell'aria del 10 maggio 87 l'aria profumava di azzurro noi scendemmo di casa la mattina per andare allo stadio e credetemi è stato come andare a Disney a piedi perché non c'era la metropolitana ci pensiamo neanche fu come andare a Disneyland in un mondo azzurro pieno di gente che gioiva felice che si abbracciava e al fischio finale di Pairetto accanto a me c'era un signore di cui non era possibile capire l'età ma era molto molto avanti negli anni mi girai e piangeva come un bambino mi abbracciò ovviamente mai visto e mai conosciuto mi abbracciò e disse grazie grazie a me e grazie perché tenga uno può mi abbracciare allora questo voglio dire ragazzi aspettiamolo dai è vicino il profumo di vincere a Napoli non esiste in nessun'altra parte del mondo ringrazio l'avvocato Nello Caserta di essere stato con noi ringrazio te e ringrazio gli spettatori e speriamo di rivederci presto assolutamente sì un bacio a tutti e lo sapete forza Napoli sempre a presto 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 a presto